buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite capitolo 4 stagione 4 domenica 22 ottobre 2023 siamo alla fine della settimana numero 8 perché oggi appunto è domenica e stanotte nello shop è arrivato Mida Ombra ma vediamo il bundle armadietto di Nikov sfogge le due tattiche avanzate con il bundle armadietto scelto da Nikov che è questo bundle da 1500 VBAC con all'interno la skin bracer il piccone skin molto carina la copertura e il delta plano 1500 VBAC per questo bundle poi sono uscite bananita sbucciata Mida Ombra Santum ma faremo il contest di oggi su Mida Ombra visto che è un personaggio molto quindi se raggiungiamo i 50 like e i 2000 iscritti al canale sceglierò uno di voi che avrà scritto nei commenti Mida qua sotto al video quindi mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina condividete il video con i vostri amici e supportatelo con un like altro è uscito? No bella anche bananita però non male non male questo shop prima di chiudere il video di oggi vi ricordo il contest che uscirà per halloween che sarà o il codice per riscattare harley queen questa qui molto carina faremo un video tipo quello dell'altro giorno oppure la skin di spiderman guerra 0 quindi state pronti che arriverà un video con il codice magari anche di tutte e due le skin quindi vediamo 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 io vi ringrazio per aver visto il video noi ci vediamo più tardi con una foto creativa vi auguro una buona giornata e un buon game a tutti ciao 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 Grazie a tutti